Nelle cantine dei Colli Euganei gli storici vini rossi lanciano la sfida ai fratelli bianchi. Merloca, Bernet, Rosso dei Colli, Carmener porteranno in etichetta le caratteristiche della precisa zona degli Euganei nella quale è stata coltivata l'uva, nord, sud, ovest, est o centro. Il nome del vino non cambia, variano però le condizioni climatiche delle aree in cui vengono prodotti i e quindi le sfumature finali. Anche il consumatore lo saprà. Noi siamo in un'area dove dal 1850 si coltivano vitigni francesi Merloca, Bernet. C'è chi produce questi vitigni in purezza e c'è chi invece le fa in assebramento. Per noi è il Colli Euganei Rosso che è forse l'espressione migliore, almeno a mio giudizio. Problema acqua. In questi mesi la vita è in fase vegetativa zero e ne assorbe pochissima. Per la grande scarsità di precipitazioni invernali, nelle prossime primavera e estate, i viticoltori staranno metaforicamente con gli occhi al cielo oppure allo smartphone, in attesa della pioggia. Per il sistema viticolo il problema dell'acqua sarà quando andremo verso i mesi caldi, quando saremo in piena fase di ingrossamento dell'uva, che c'è la necessità di acqua. E questo sarà un problema se non ci sarà un recupero.